Il progetto Pigmentum per la Fondazione Museo Art Industria che gestisce il forum di Omenia e il parco della fantasia genero d'ari è molto importante perché racchiude tanti valori in cui la fondazione stessa crede molto, cioè il valore della creatività, della territorialità e dei talenti. Creatività perché in questa zona sperimentale del nostro territorio si possono sviluppare progetti differenti, alternativi e fantasiosi rispetto a quelli che di solito vengono realizzati. Per cui qua può succedere cose che in altre parti del territorio non possono succedere grazie proprio alla creatività. Per cui il progetto Pigmentum va proprio in questa direzione. Creatività innanzitutto. Territorialità perché è un progetto rivolto alle persone creative del nostro territorio perché la fondazione crede e si rivolge a queste persone qua. E talento. Talento perché proprio la capacità di andare oltre l'immaginato è la caratteristica che noi vorremmo che sul nostro territorio si sviluppasse in maniera forte e decisa. D'altronde il talento dell'alternativa e della creatività è stato quello che ha caratterizzato il nostro territorio. Dall'invenzione della moca alla capacità letteraria di Gianni Rodario tutti i veri talenti che hanno caratterizzato fortemente il nostro territorio sono proprio legati alla creatività e permettono di aprire nuovi spirali e nuove prospettive per il futuro. Insomma Pigmentum va proprio in questa direzione. Se avete voglia di lanciarvi con noi in questo progetto sperimentale vi aspettiamo.